Buonasera a tutti e tutte, sono Francesca Fazio di Avventura Urbana e con questo video illustrerò gli strumenti più utilizzati durante un dibattito pubblico e gli aspetti relativi alla comunicazione e all'informazione. Il dibattito pubblico viene organizzato e gestito in base alle caratteristiche dell'intervento oggetto di discussione e del contesto territoriale in cui esso si inserisce. I temi di discussione e le modalità di incontro vengono definiti dal coordinatore o dalla coordinatrice del dibattito pubblico che con la nuova riforma del codice degli appalti si chiama responsabile sulla base di una fase di ascolto preliminare rispetto all'avvio. Durante questa fase spesso vengono realizzate delle interviste che possono essere individuali o collettive con soggetti che possono rappresentare i punti di vista diversificati sull'oggetto della discussione. Al termine di questa fase viene elaborato il progetto di dibattito pubblico che può includere attività operative deliberative o ancora che afferiscono all'ambito della mediazione dei conflitti. In particolare i dibattiti pubblici svolti finora sono stati realizzati attraverso sopralluoghi partecipativi nelle aree interessate dall'opera, laboratori di quartiere, incontri di tipo informativo tendenzialmente di carattere territoriale e di approfondimenti sui temi che destano maggiore interesse o preoccupazione presso la cittadinanza. Fino ad ora questo tipo di attività sono state realizzate sia online che in presenza mentre con il nuovo codice degli appalti saranno privilegiate le attività di tipo telematico. Importante è anche la raccolta di contributi scritti chiamati quaderni degli attori e di domande che pervengono attraverso i canali del dibattito. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione del dibattito pubblico uno strumento fondamentale è il sito web che contiene informazioni sulle ragioni dell'opera, sulla sua storia, sulle sue caratteristiche ma anche una descrizione degli obiettivi del dibattito pubblico, le indicazioni su come partecipare agli incontri, inviare i propri contributi e consultare la documentazione che viene prodotta nel corso del processo. Anche i canali social del dibattito ovviamente sono importanti per comunicare quanto viene realizzato così come anche la diffusione di materiale informativo come locandine, volantini e così via. Le relazioni con la stampa sono fondamentali per curare la comunicazione del processo verso l'esterno attraverso l'elaborazione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, di interviste e infine anche la pubblicazione del materiale che viene prodotto, per esempio le restituzioni degli incontri e al termine del dibattito la relazione conclusiva. Affinché il dibattito risulti efficace è importante che faccia emergere le esigenze e i punti di vista diversificati che ruotano attorno al tema, per questo è importante che gli strumenti che vengono adottati siano inclusivi. Infatti è importante favorire la partecipazione anche di coloro che normalmente non prendono parte a questo tipo di processi, eliminando eventuali barriere fisiche e sociali. È molto utile prevedere modalità di interazione differenziata, ad esempio sia scritte che orali, sia sincrone che asincrone, per venire incontro il più possibile alle preferenze e alle capacità di tutti e tutte. È importante che l'informazione non sia soltanto completa e trasparente, ma anche accessibile, ad esempio costruendo siti web che seguano le linee guida per l'accessibilità e che la comunicazione adotti un linguaggio semplice ed inclusivo e che venga veicolata attraverso canali che possano raggiungere fasce diverse della popolazione. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione.